Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi sugli indici, settimana numero 35, quella che ci ha portato tra agosto e settembre, quindi finiscono sostanzialmente le ferie estive e si riparte per la stagione autunnale. Come vedete sono leggermente positive le performance dei distini europei, decisamente negative quelle dei distini americani, ma vedremo adesso la motivazione di questa differenza di risultato. Prosegue la volatilità sui mercati che non riescono a trovare la stabilità, con notizie che si susseguono e che certamente non portano tranquillità agli investitori. Si era iniziata la settimana sull'onda lunga negativa ancora delle parole di Powell, a cui era poi seguita una reazione, soprattutto per i distini europei, per poi tornare a scendere sui dati dell'inflazione, ancora sopra le attese e in attesa dell'importante dato americano sul lavoro dei non farm payrolls. Dato che è uscito sopra le attese, per cui è iniziata una reazione positiva per i listini e che ha permesso alla chiusura dei listini europei di avere un leggero guadagno per la settimana, ma subito dopo la chiusura dei listini europei è riuscita la notizia che i 27 ministri delle finanze europei si erano trovati d'accordo sul mettere un price cap al gas e a quel punto Mosca ha reagito prima con le parole di Medvedev che ha dichiarato che il gas russo non sarà più in Europa se lui imporrà il price cap e poco dopo Gazprom ha annunciato che ha trovato un nuovo guasto e pertanto dovrà chiudere nuovamente il gasdotto che porta il gas in Europa per impellenti riparazioni. Chiaramente questo ha provocato una reazione negativa sui listini ancora aperti e Wall Street che era in discreto guadagno ha invertito la rotta ed è poi scesa fino a chiudere negativa di oltre un punto percentuale. Si deve anche aggiungere che lunedì Wall Street sarà chiusa e pertanto probabile che vi siano state anche delle prese di beneficio per chi voleva evitare di rimanere esposto sui mercati per tre lunghi giorni senza possibilità ovviamente di operare. lunedì ricordiamo verrà nominato il nuovo primo ministro inglese, sono finite le votazioni del partito per cui lunedì sapremo chi è il nuovo capo dei conservatori e di conseguenza il nuovo primo ministro in Gran Bretagna. Andiamo adesso a guardare i nostri grafici, partiamo come sempre da Piazza Affari, è stata una settimana volatile, chiude sostanzialmente in parità più 0,11%, anche se è molto probabile che lunedì si scenderà a recuperare la negatività delle ultime ore di Wall Street. Positivo il fatto che si sia chiusi sopra i 21.800 punti, ma è molto probabile che vi sarà un affondo verso i 21.500 e il rischio è che si scenda anche in area 21.150. A quel punto ci si augura che possa tenere il livello in quanto il tentativo di piccolo trend al rialzo possa essere mantenuto e non inficiato. Segnaliamo seconda settimana di seguito con volumi in media Piazza Affari, pertanto inizia ad esserci un ritorno dell'interesse degli investitori. Vedremo pertanto se la tenuta dei 21.150 o purtroppo i 20.500 minimo annuale reggeranno per non andare a guardare al gap dei 19.8.22, vedete qua giù, del quarto trimestre del 2020. La primissima resistenza al momento sono i 22.200 punti, auguriamoci che possano essere questi i primi risultati della settimana. Andiamo a vedere il grafico del DAX che sostanzialmente non presenta nulla di diverso rispetto al grafico di Piazza Affari, anche qui come vedete è stato testato a ribasso l'area di supporto tra i 12.500 e i 12.650 punti, la chiusura è avvenuta sopra i 12.960, in realtà la chiusura è avvenuta anche sopra i 13.000 punti, non si è andati a testare i 13.200 per poco, ma la settimana era stata sostanzialmente similare. Il DAX torna nei volumi in media dopo invece molte settimane che non lo erano, pertanto anche qui ritorno degli investitori, il DAX si stava comportando molto bene a dir la verità prima delle notizie sull'inflazione, vedremo quindi anche qui come ci si muoverà. Prima resistenza 13.200 come detto, vedremo se invece non dovessero tenere l'area di supporto 12.500 e 12.650, si dovrà andare a riguardare l'area 12.100, 11.900 punti. In settimana negli Stati Uniti si attendevano i dati sull'inflazione e quelli sul lavoro, sono usciti entrambi sopra l'attese, quindi inflazione ancora sopra l'attese, ma anche un numero di posti di lavoro sopra l'attese. Questo permetterà alla Fed di proseguire sulla sua strada di pesanti aumenti dei tassi, in quanto ha dimostrato, ha la dimostrazione che questa politica aggressiva non sta fermando il mondo del lavoro. In settimana abbiamo avuto alcune dichiarazioni di alcuni esponenti della Fed, hanno dichiarato che non vi sarà alcun ripensamento sulla roadmap già tracciata e che non ci sarà nel 2023 alcun taglio di tassi, anche se l'inflazione dovesse tornare sotto controllo, ossia nell'area del target del 2%. Naturalmente la dialettica è una cosa e la pratica tra un anno potrebbe essere diversa. In ogni caso la posizione della Fed è quella di voler dimostrare di essere con polso fermo sulla situazione. Andiamo a vedere quindi i grafici dei listini americani, terza settimana consecutiva al ribasso a Wall Street, il Dow Jones si è fermato con volumi in aumento, anche qui erano parecchie settimane che non erano in media, con volumi in aumento sul supporto dei 31.250, l'ha testato, è rimbalzato leggermente sopra, anche qui sarà importante la tenuta in quanto dopo un massimo crescente sarebbe opportuno avere un minimo crescente per poter avere l'ipotesi di un trend al rialzo. Sarà pertanto molto importante la tenuta di questo livello e soprattutto che non venga rotto al ribasso il livello dei 29.750. Quindi ci auguriamo che possa tenere la prima resistenza per il Dow Jones, in questo momento è molto lontana, sta oltre i 33.250 punti. Situazione sostanzialmente similare per il listino tecnologico del Nasdaq, terza candela negativa, anche qui si è fermato sul supporto dinamico, vedete? Ha ceduto il supporto statico dei 12.200, ma ha tenuto la rialzista che ha contenuto la discesa, vedremo adesso se sarà sufficiente, se il Nasdaq dovrà scendere in area 11.400, 11.000 punti che sono i minimi di quest'anno o se invece riuscirà a rispondere, a reagire da questi livelli e si riporterà prima sopra i 12.200 e poi andrà a cercare di passare la resistenza dinamica in area a 12.700 punti. Segnaliamo al Nasdaq anche qui incremento dei volumi in questa settimana con un superamento invece della media ed è il primo listino che vediamo che ha presentato volumi oltre la media settimanale. Chiudiamo infine l'analisi con SP500 che rispetto agli altri listini non è arrivato al test del supporto, si è mantenuto al di sopra, vedete il supporto a 3.860, il minimo della candela è stato a 3.900 punti, quindi una quarantina di punti al di sopra del test del supporto, anche qui sarebbe importante un eventuale test e tenuta per portarsi anche qui a poter dichiarare un nuovo trend rialzista per quanto tra mille difficoltà. Primissima resistenza adesso sono i 4.020 punti che erano supporto per la settimana appena passata, anche qui ormai ci rimane solo da aspettare e da guardare. Certamente non depone a favore l'ultima notizia che abbiamo letto in ordine di tempo, ossia di un nuovo contratto di vendita di armi degli Stati Uniti a Taiwan per oltre un miliardo di dollari, nuovo contratto che ha già scatenato le ire della Cina, che minaccia contro misure se tale vendita verrà effettuata e chiaramente questo servirà solo ed esclusivamente ad alimentare nuove tensioni sui listini che invece avrebbero bisogno di un po' di tranquillità dopo tutte le turbolenze di questo ultimo periodo. Augurandoci che possano effettivamente uscire notizie positive e in qualche modo vi salutiamo, vi auguriamo un buon fine settimana e naturalmente vi chiediamo come sempre un like per il nostro video.